Cos'è il citomegalovirus congenito? Il citomegalovirus congenito, CMV, è una condizione riscontrata nei neonati che sono stati infettati da questo virus mentre si trovavano nell'utero. Il maggior rischio di sviluppare questa condizione si verifica quando una madre che non era stata precedentemente esposta a questo virus viene infettata all'inizio della gravidanza. Sebbene molti bambini siano asintomatici dopo l'esposizione uterina al CMV, alcuni hanno manifestazioni gravi, tra cui un basso numero di globuli rossi e un cervello malformato. Il trattamento dell'infezione da citomegalovirus congenito si concentra sul trattamento dei sintomi e sull'uso di farmaci antivirali per via endovenosa. Il citomegalovirus umano è un agente patogeno che infetta molte persone in tutto il mondo. Viene comunemente trasmesso attraverso il contatto con fluo e di corporei, tra cui la saliva e l'urina. Una volta che il virus entra nel corpo, invade le cellule e si replica all'interno di esse. Il virus può spesso rimanere dormiente nel corpo umano per anni dopo l'infezione. I problemi possono sorgere quando una donna incinta viene infettata da CMV per la prima volta. Il virus infetta la madre, si replica all'interno delle sue cellule e invia nuove particelle virali nel flusso sanguigno materno. Queste copie di CMV possono attraversare la placenta ed entrare nella circolazione fetale, causando infezione nel bambino in via di sviluppo. In genere il feto presenta la peggiore infezione se esposto a CMV nelle prime fasi del processo di sviluppo, specialmente nel primo trimestre di gravidanza. Le manifestazioni di infezione da citomegalovirus congenito possono variare, con alcuni neonati che sono asintomatici e altri con sintomi gravi. Fino al 90% dei bambini che avevano prove dell'esposizione al CMV prima della nascita erano inizialmente asintomatici e non presentavano problemi gravi. Alcuni di questi bambini, tuttavia, hanno avuto problemi con difficoltà di apprendimento, ritardo mentale e perdita dell'udito. Questi sintomi tardivi di sviluppo spesso non sono mai associati a CMV a causa della loro presentazione ritardata. Altri bambini esposti a CMV in utero sono nati con gravi sintomi di citomegalovirus congenito. Possono avere un basso peso alla nascita, bassi livelli di globuli rossi, itero, diminuzione della conta piastrinica nel sangue e ingrossamento dei fegati. Alcuni hanno anche difetti alla nascita che alterano il loro aspetto fisico. Tra cui microcefalia, o avere una piccola testa. Questi bambini con risultati gravi spesso hanno prognosi in faust e hanno problemi con ritardo mentale, convulsioni e sviluppo motorio. Il trattamento dell'infezione da citomegalovirus congenito si concentra in genere sull'alleviare i sintomi causati dalla malattia. Ad esempio, un bambino nato con un basso numero di globuli rossi potrebbe essere trattato con una trasfusione di sangue. Alcuni ricercatori hanno studiato i benefici del trattamento dei neonati affetti da farmaci antivirali per via endovenosa e hanno scoperto che questa terapia potrebbe aiutare a ridurre la progressione di alcuni sintomi. Per le madri che hanno avuto un'infezione da CMV nelle prime gravidanze che hanno causato gravi deformità congenite evidenti nell'ecografia prenatale, a volte viene offerta la sospensione elettiva. Non è stato dimostrato che il trattamento con agenti antivirali nel corso della gravidanza offre benefici.